Giustamente perché mai io dovrei continuare le serie importanti sul canale quando c'è questo, su Switch, no? Che dire? Che fa... Che dire? Che dire? Che dire? Se non conoscete i catamari siete delle bruttissime persone. Vabbè, cosa non è? Tra l'altro... Allora, allora, purtroppo dovrò mettere il volume molto basso qua perché sennò mi blastano tipo tutto, il canale me lo chiudono, arriva la SWAT. Ma io ho anche il peluche ufficiale brandizzato di Catamari perché è qualcosa di magico. Mi piange il cuore al fatto che a quanto pare è una serie ormai conclusa, non la proseguiranno più. Io ho proprio fisiologico bisogno di altri catamari, possibilmente a 60 fps su PlayStation 4 Pro o PS5. Perché avere, paradossalmente, è una serie di giochi in cui la potenza di calcolo, la potenza della macchina è molto importante. Molto importante. L'ultimo catamari su PS4 soffriva di cali di framerate molto importanti che andavano a rovinare l'esperienza. Allora, questo dovrebbe essere il prologo. Tra le altre cose, io a volte ho questo problema. Non ricordo se i giochi sono in italiano o in inglese. Il che indirettamente è una figata perché significa che nella mia testa è quasi la stessa cosa a livello di comprensione. Ma mi capita spesso di non ricordare se un gioco è in italiano o in inglese. E questo è in italiano ed è il motivo per cui l'ho comprato. Ma perché sono abbastanza convinta che non tutti i catamari sono arrivati in italiano. Ma magari ricordo male io. Allora, avevo pensato che questo fosse un buongiorno per rotolare il catamari, il principe. Chi rotola per primo, rotola due volte. Rotola, 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 rotola. Solo per questo scopo ci siamo presi la briga di creare questo spazio. Il re del cosmo si è preso la briga solo per far rotolare un catamari. Solo per questo. Una bella briga. I dialoghi sono bellissimi. Lui è il re di tutti i cosmi. Quindi vorremmo che iniziassi subito a rotolare. Però, però, prima di tutto, al principe piace la vibrazione? Parliamo di tutto quel movimento e quello scuotimento. Sì, vabbè, questo è chiaramente il tutorial. Vabbè, se non ti piace puoi attivare e disattivare la vibrazione, va bene. Questo è proprio il tutorial. Tra l'altro non ho mai usato il controller switch. Perché non lo fa? Forse ancora non me l'ha sbloccato il turbo. Affascinante, ci sentiamo venire meno. Ok, forse ancora va bene. Eh, infatti, non me l'aveva sbloccato perché era stranissimo che non funzionasse. Tra l'altro c'è la possibilità di guardarsi intorno per guardare se c'è qualche dettaglio. E si può saltare. Però questo serve principalmente appunto per avere una visione dall'alto. Non è gameplay. Mi sentivo una cretina non riuscire a fare il turbo. Che bello che è. Ok, fantastico. Fantastico, 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 fantastico. Ora ci dovrebbe essere il primo livello. Che bello che è Katamari. Ho anche un poster che ho appeso davanti al computer di Katamari. Solo i giapponesi possono pensare queste cose. No, non era un sogno. Ce l'abbiamo fatta. No, il re del cosmo, ce l'abbiamo fatta. Un cielo pieno di stelle. E noi l'abbiamo rotto. Sì, siamo stati cattivi. Tanto, tanto cattivi. E siamo tanto, tanto spiacenti. Ma che rimanga fra di noi. È stato molto soddisfacente. Non ricordiamo molto bene, ma eravamo tutt'uno con la natura. Abbiamo sentito la bellezza e amato ogni cosa. E visto il nostro sorriso genuino, guardategli la faccia. E visto le stelle infrangersi con assoluta bellezza. Erano così tante che quasi davano fastidio. Ora non c'è altro che oscurità. Cioè, questo ha fatto un casino. Vabbè. Ma? Quel portentoso, favoloso momento è passato. È svanito. Al nostro sbaglio tutti erano furibondi. Va bene. Comunque sia, minuscolo principe. Sbrigati a far tornare il glorioso cielo stellato. Il nostro scopo è ricreare le stelle. Praticamente che ha distrutto il re per sbaglio. I nostri problemi sono i tuoi problemi, giusto? Ci devi la vita, quindi sei in debito con noi, giusto? Mano nella mano, sempre insieme, giusto? L'avere senza il legame padre figlio, giusto? Vabbè, a posto. Invio cose sulla terra. Vabbè. Film, programmi, elefanti, chiraffe, pecore, alligatori. Eccoci qua. La terra, piena di cose, come sempre. Come sei piccolo. Piccolo, sei più piccolo che mai. Non ce ne eravamo accorti per niente, per via delle stelle e il resto. Quel corpo, quel fisico. Sei veramente il nostro figlio? Ah, ma certo. Cerca di crescere mentre fai crescere il catamari. Allenati e diventa più grande. Proprio così. In pratica il gioco del catamari è fare rotolare questa palla appiccicosa, assorbendo le cose. Più cose raccogli, più la palla diventa grossa, più cose puoi raccogliere. Perché più che diventa grande, più cose grandi puoi raccogliere. Dà una fottutissima soddisfazione. Vabbè, non pensare che la tua strada verso il trono sia spianata solo perché sei il principe. Beh, stiamo divagando le facce che fa. È la tua prima volta sulla terra, quindi non preoccuparti del tempo. Vero e ma riprenderti quando il catamari arriverà a 10 centimetri. Va bene. Quando una di queste cose ti arriva alle spalle, te la visi in basso a sinistra. Sì, se sbatti contro le cose, o contro le cose inanimate molto forti, o contro gli esseri viventi, perdi dei pezzi e ti rimpicciolisci praticamente. Va bene. Non puoi morire, non puoi perdere, eccetera. Quindi rilassati e rotola. Va bene. Oh. È uguale. È la prima cosa che noi abbiamo raccolto. Siamo commossi. Sì, ovviamente lui parla al plurale. Siamo anche in diretta, tra le altre cose. È uguale, sì. L'ho capito. Re, l'ho capito. Qui bisogna infatti stare un po' attenti. Dovremmo scriverlo nel nostro diario. Vabbè. Tra le altre cose c'è un archivio delle cose che noi andiamo a raccogliere. Cioè, puoi fare la collezione completa. Mentre, come questo piccolo blur che si è visto, è stato perché siamo diventati più grandi. Questo, a livello di gameplay, ti indica uno scatto. Con questo scatto, il gioco ti fa intuire che adesso puoi raccogliere le cose un po' più grandi. Diciamo che non c'è un indicatore chiaro su quello che puoi raccogliere e cosa no. Bisogna un attimo andare a intuito, ovviamente. Ad esempio, il rossetto, però adesso è troppo piccolo. I topini. Questo è un livello proprio iniziale, con le cose piccoline. Ma poi si arriva ad avere dei livelli macroscopici. E, ripeto, dà una soddisfazione. Anche perché nel controller hai ogni cosa che raccoglie una piccola vibrazione. Vi assicuro, è piacevolissimo. È rilassante da morire, tranne quando devi raccogliere il muccorso. Il livello del muccorso, che non so se c'è in questo gioco, E quello è un inferno. Diciamo che lì in massima il catamari ha sempre riciclato abbastanza. Certi concept, ma i livelli sono geniali. Per esempio qua mi sembra che c'è un buco nel muro. Esatto. Però non si può, perché siamo ancora troppo piccoli. Però ti fa capire che c'è la... Che si può andare dall'altro lato della stanza. Ecco qua. Adesso dai, possiamo anche prendere le fragole, le caramelle. Guardate, siamo quasi 10 centimetri. Esatto. Come va, principe? Come è la terra? Eh? Eh? Oh! Hai creato un catamari da 10 centimetri. Che bravia! Ce ne eravamo dimenticati. Quando il tuo compito è terminato, presumiamo... Quando il tuo compito è terminato... Vabbè, tutti sulla terra sono gentili, quindi saranno molto disponibili. Ti permetteranno di raccogliere tutto con il sorriso. Magari ti ringrazieranno. Comunque sia, però ora si torna a casa. Sì. E gli è uscito un arcobaleno dalla bocca. Si sta sfuggendo i ment... Mentre i rotoli sulla terra devi fare attenzione a alcune cosette. Ok, vabbè. C'è pure il tutorial. Non puoi raccogliere oggetti più grandi del tuo catamari. Si sbatti contro oggetti più grandi o muori, il catamari perde pezzi e si rimpicciolisce. No! Brutalissimo. Eh, è proprio obiettivo, ma non è molto emozionante, vero? La prossima volta vogliamo darne uno più grande. E raccolto soprattutto... Cielo, la terra è piena di cose. Ora le lancieremo nel cielo. Vabbè. Che schifo. Una schifezza. Ti sei dimenticato del tuo pianeta? Quindi non sei solo piccolo, anche un po' tardo. Con i genitori ci sentiamo in parte responsabili. Questo è il tuo pianeta. Il pianeta su cui vivi. Qui puoi mirare le stelle, salvare il gioco e fare tante altre cose. Puoi anche visitare la terra il fungo spaziale. Prevene il pulsante R, L o il pulsante R. Fai rotolare il catamari sulla terra e visita il fungo spaziale per sfidare i tuoi cugini. Questo è tutto, vostra piccolezza. Datti una mostra. Vossa, vostra distrazione. Salva il gioco sul tuo pianeta prima di uscire. Se c'è uscito dal gioco, i progressi verranno persi. Dati. Collezione. Audio. Vedi i costellazioni. Configura comandi. Regali. Sì, tra le altre cose infatti è possibile fare, o trovare dei piccoli regali in giro che ti permettono di sbloccare dei collezionabili per personalizzare il principe. Fungo spaziale. Sì, qua si può giocare in due praticamente. Oh mio Dio. Nick. Ace. Vabbè, non ci interessa. Questo gioco non l'ho mai giocato, quindi... Scusate se sono... Ok, adesso qui ci dovrebbero essere i livelli. Crea una stella 2. Questa l'abbiamo fatto. Ok. Magandang tangali po. Hai mai visitato il Filippine? Noi ci abbiamo fatto un salto l'altro giorno. Vabbè. Un regalo per il nostro zelante principe. È caduto sulla terra. Adesso è in giro da qualche parte, quindi raccoglilo se lo trovi. Che cattiveria. Ci ha detto che aveva un regalo per noi e poi ha detto che l'ha perso. Che cosa è orribile. Che padre è terribile. Sì, l'hai già detto. Elefanti, giraffe, pecore, alligatori. Vabbè, questo è praticamente lo stesso livello, però partiamo da un altro punto, mi sembra. 20 centimetri. Crederemo in te per 7 minuti in tempo terrestre. Ma se esageri poi il re del cosmo avrà la pazienza di aspettare. Tra le altre cose, se notate, già adesso si vede. Ci sono i topini che spingono il cibo. Le formichine che si stanno rubando i dolciumi. Questi livelli, soprattutto più diventi grosso, quindi più hai una visione dall'alto. Più ti rendi conto che sono animatissimi. Ci sono delle cose folli dentro. È fantastico. Ci aspettiamo un buon catamaro. Vai. Tra l'altro dovremmo essere in grado di prendere le formichine. Esatto. Formichina dai 6. È così. Queste però si... Ah, le posso già prendere? La pallina per pacinco? Ma lo sto facendo molto scialla perché in teoria ti dovresti entrare a fare così. Magari ho dei comandi che stai utilizzare per non schiantarti. Arriva qualcosa? No, no. Non arriva niente. Noi scriviamo tutto. E ovviamente più diventi grande più ti conviene velocizzare e raccogliere le cose grosse. Ovviamente. L'obiettivo è farlo più grosso possibile. Quindi bisogna puntare e raccogliere sì tante cose ma comunque puntare subito alla roba grande per fare prima. Le musica di Catamari sono la vita. Mi dispiace che dovrò abbassarle perché suppongo che ci sia un copyright abbastanza importante. E non vorrei che mi bloccassero il video. Ah, guarda là. Ok. Scheda di memoria. Di due miliardi anni fa. Dai, dai, dai. Ah, niente. Ah, no, 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 no. Ok. Qui possiamo passare quando abbiamo raggiunto 10 centimetri. Quindi fra molto poco ma non ancora. Dai, 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 dai. No, ok. Ecco, vedete. Oh. Hmm, 10 centimetri. Fallo più grande. Lo so. Papà, non interrompermi. Tipo quest'area in teoria non era necessario salire. Però infatti abbiamo avuto un enorme vantaggio nel farlo. perché c'è un sacco di roba che possiamo raccogliere per diventare belli grossi. Ecco qua. Chissà dove il regalo. Io sinceramente non me lo ricordo. No. Allora, allora, dai. A questo punto dovremmo essere in grado di prendere i topini però. No, non ancora. Però le rane sì. Esatto. E anche le lumache. No, troppo tardi. Cosa stai facendo? Sì, forse ci siamo persi qualche animale unico. E poi ci sono delle cose che possiamo perdere. O diventiamo troppo grossi e non possiamo più raccoglierle. Oppure lo diremo alla mamma. O appunto diventiamo troppo grossi e non possiamo raccoglierle. Quindi spariscono, diciamo, dallo schermo. Oppure semplicemente scade il tempo e comunque scappano via. Esatto. Se vedi qualcosa di simone, vi raccogli la prima che scappi via. Ovviamente questo finirà nel nostro diario. Quanto stupido lui. No, levati. 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 Sì, erano delle cosce di pollo. Ah, ho preso il regalo. Non l'ho neanche visto. L'hai trovato dunque, ok? No, fammi continuare. Ma che bel catamari. Essenziale, ma va giù che è un piacere. Tutto io ci piacerebbe vedere un catamari più grande e più bello. Ti lasciamo al tuo lavoro. Sì, vabbè, abbiamo completato, ma abbiamo ancora del tempo per cui possiamo continuare a fare st'opera di distruzione della terra. No, ma sulla terra sono tutti gentili. Quindi ci faranno raccogliere le cose, faranno felici e ce le daranno con il sorriso. Sì. Certo. Vedete già che siamo più grossi, che vediamo tutto da un punto di vista molto più chiaro. Adesso, pensate, tornare adesso qua dentro è completamente un'altra cosa. Guardate qua. Sì, quella è una persona comunque, sì. Che poi ovviamente il fatto che dice che sono tutti gentili è una presa per il culo della cultura giapponese è autoironia, ovviamente. Ovvero il fatto che comunque in Giappone di solito è molto educata, anche se è una cosa da fastidio, te la lascia fare. L'oro anche purtroppo, diciamo, non è una cosa bella. Che soddisfazione, ragazzi, voi non avete idea. Probabilmente da vedere questo video per voi sarà una merda, ma vi assicuro che è giocarlo. Quelle piccole vibrazioni. Ma si può saltare in questo? Mi sa di no. No, no, in questo gioco di catamore non si può saltare. Siamo ancora troppo piccoli per raccogliere determinate cose. Magari adesso possiamo? E tra l'altro se notate anche la faccina del principe è concentratissimo. Guardatelo. Sì, e sulla cuccia c'è anche un... C'è anche il cane spaventatissimo che ci vede fare questa cosa ed è molto preoccupato. Questo si può prendere sicuro. Dai, 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 dai. Ok. Vaporizzatore. E qui ci sono altre cose. Spugna. Adesso possiamo prendere anche i coltelli. Occhiali, giustamente. Non metto senso. Dai, 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 sali. Ok. Adesso torni dentro casa e fai il delirio, ovviamente. Ecco qua. Ovviamente prendere l'ascia è uno degli obiettivi praticamente di fine livello. Sono determinati oggetti che veramente puoi riuscire a prendere solo alla fine se ti impegni. E ovviamente ci sono dei... Sono incastratissima. Ovviamente ci sono degli oggetti. Molti oggetti si ripetono di livello di livello, ma ci sono degli oggetti unici nei livelli. Quindi per completare la collezione comunque bisogna essere veramente bravi. Io l'ultimo catamari su PS4 sono arrivata a platinarlo. È stato un incubo comunque. È veramente un incubo. Sì, ancora un minuto, lo so. Papà, via, via, levati. Che mi strisci la visuale. Ah, mamma mia. Tra l'altro appunto questo è uno dei primi livelli. È il primo livello in pratica. Aulini è molto tranquillo. Poi ci sono anche, ora non solo in questo gioco di catamari, ma di solito ci sono anche dei catamari speciali. Ovvero dei... Non solo devi farlo più grosso, ma per esempio hai un catamari di fuoco, quindi devi continuare a raccogliere le cose, perché se ti fermi si spegne. E se si spegne hai fallito, per esempio. Ci sono cose di questo tipo. Non fa per niente ansia questo suono, effettivamente, eh. Non è che un pochino. Ok, ce la faccio a prendere l'ascia, no. Ovviamente no. No, peccato, peccato. Niente. Fatto. Stavo fatto un abbastanza schifo, eh. Sarei a guardare stato noioso. Arcopaleno reale! Ok, facciamo un altro livello. Queste dimensioni ci commuovono fino alle lacrime. Ho ottenuto il regalo. E raccolto soprattutto. Cartoleria. Ok. Ovviamente queste sono stelle di... Di merda, sono piccolissime. Però poi arrivi a prendere cose incredibili. C'è la trama. Sì. A posto, non è una cosa importante. Ok. Crea una stella 3. È molta, molta fantasia nella scelta dei nomi. È da 20 minuti che sto registrando questa follia. Boa tarde! Siamo stati in Portogallo? Noi ci siamo serie. Va bene. Sì, l'abbiamo lanciato da qualche parte. Devo dire che... Preferivo la trama dell'ultimo Katamari su PS4, che è comunque un mischione dei livelli più belli di tutti i Katamari. Per clicciare proprio il re, un tipo un re artificiale, robotico, una cosa allucinante. Ho girato le re in città. Il Katamari deve essere di almeno 50 centimetri. Crederemo in te per 9 minuti. Ma se esageri va bene. Ripeto sempre le stesse cose. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Però vedete, già si parte da 10 centimetri, per esempio, in questo caso. Quindi non è che parti sempre da pochissimo. Mamma mia, le musiche. I scarabester corari. E andando in città, ovviamente, vedrete anche molte più persone. Siamo ancora troppo piccoli per prendere gli uccellini. Che ha detto così, suona molto male. Ho detto uccellini. Posta. Per evitare. Esca. Giustamente ha senso che ci sia l'esca in giro. No, mi sono incastrato. Sari. E mi sa, no, che non si può saltare. Perché il salto qui è il principe che si alza per dare uno sguardo. Non è il Katamari che salta. Cioè, perché in realtà mettere la meccanica del salto ti va a rivoluzionare il gameplay. Avete visto che c'erano per terra dei disegni col gesso? Bene, sì. Quelli si possono raccogliere. Sono andati in un posto di merda dove non c'è niente che posso prendere. Ho fatto schifo. Ho fatto un errore madornale. Quindi adesso me ne devo andare velocemente. Cioè, tipo, se avessi avuto la missione del Katamari di fuoco, probabilmente avrei fatto game over. Si sarebbe spento. Ah, posso prendere già il libro del kanji. A posto. Mentre. Vai. No, 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 no. Dai, dai. Ok. No. Porca miseria. Eh, non avere il... Non avere il Katamari che salta mi... Mi ottunde. Eh, lo so che è quello che posso prendere. Sto facendo schifo. Papà è deluso. Ah, il Katamari di Latte lo posso raccogliere. Mi sottovaluto, quindi. No. Questi sono i suoni che fanno gli animali, diciamo, gli esseri viventi. Quando... Quando percepiscono il pericolo, ecco. No. Ancora troppo piccoli per le bottiglie. Dammi tempo. Banana. Ah, sì. No? Però con odoro sì. Di solito per prendere gli esseri viventi devi fare lo scatto. Non... Perché riescono a scappare. Non sempre. Sì, tra l'altro c'è una minima animazione. Principe! C'è una minima animazione. Notare tra l'altro che se raccogli le cose abbastanza sporgenti ovviamente il rotolamento non è più fluido. Niente, ancora le... Niente. Queste non le possiamo prendere. Ah, è qui. Questa bellezza è esattamente dove abbiamo cominciato. Vai, 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 vai. Vai, raccogli tutto, raccogli tutto. Sì, la parte più difficile ovviamente è l'inizio dove sei, diciamo, un pericolo costante. Poi ovviamente più diventi grosso. Cibo d'asporto. Più diventi grande e più tutto si semplifica, chiaramente. Sì, c'è una pizza nella ruota, esatto. Non avete idea di quanti dettagli ci sono. Non so se si possono prendere gli uccellini, sapete? Ho memoria di me che cercavo di prendere gli uccellini. Forse sì. Ora però dovrei poter prendere i graffiti, esatto. Eh, lo sapevo. I gessetti. Ah. Ah. Gatto. Infame, guardalo, guardalo. Aggressivo. Che gli stavo prendendo il cibo, secondo lui. Ah. L'estate non c'è serie migliore che si possa fare. Cazzola con un gioco. Miau. Il cane giustamente che abbaia. Ci aggredisce. Ok, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Va bene. Va bene. Sì, sì, sì. Ovviamente tu puoi continuare tranquillamente fino alla fine del tempo. E lo scopo è quello. Cioè, quello è il requisito minimo, ma... Ovviamente... Che palle le scale. Scimmiette. Scimmia con piatti. Sì, 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 sì. Che bello. Che bello questo gioco. Anche le cose... Il muro ovviamente possono essere prese. Ci mancherebbe altro. Credo che adesso siamo pronti a prendere il cane, comunque. Gira, gira, gira. Che soddisfazione. Pizza. Per esempio, la pizza credo che sia unica nel livello. Non... Non ce ne sono altre. Vai, vai, vai. Il cane, il cane, il cane, il cane. Eccolo. Bau, bau. È così bello avere una visione più chiara del livello, man mano. Si può prendere anche il castello di sabbia. Diciamo che quando urti contro qualcosa e quella cosa vibra, significa che può essere raccolta. Però non in quel momento. Mamma mia, abbiamo preso pure le scope. Ora... Rotoliamo malissimo. Mamma mia, ho mancato, ho mancato la macchina, la macchinetta elettrica. Sì, appunto, poi, però diventando grande il rischio è che alcune cose... Ah, l'abbiamo preso è il passero. Diventando grossi certe cose spariscono e quindi non è più possibile prenderle. Ecco, abbiamo preso il gatto. Gatto soriano. I gatti sono dei bastardi. È normale, è canonico. A questo punto potrei salire abbastanza agevolmente sul tavolo dove ci sono delle cose uniche. Dai, dai, dai. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Sì, niente. Che palle. Questo gioco ha dei comandi bastardi, eh. Però è fatto apposta. Cioè, è volutamente un gioco infamissimo. Proprio per questo. Cioè, rotolare è complicato, è macchinoso. Ed è voluto, non l'hanno mai migliorata questa cosa. Ok. Vai, vai, vai. Prendi il gatto, prendi il gatto. Prendi il gatto. Prendi il gatto. Prendi il gatto. Raccogli tutto. Raccogli tutto. Vai. Ancora un minuto. Ancora un minuto. È un bordello. Sto prendendo un sacco di cose ancora. Tipo le farfalle, lì. Non me le prendere. Niente. Così complicato. E questo è niente. Cioè, voi non la vedete. Ci può diventare giganteschi. Questi sono i propri primi livelli dove si è microbi. E infatti sono talmente piccola ancora che non posso prendere nemmeno il castello di sabbia. Cioè, se non prendi il castello di sabbia sei una merda. Vabbè che ovviamente nel momento in cui impari i livelli sai dove andare. Perché ovviamente c'è un percorso ottimizzato per prendere più cose possibile. Non puoi prendere tutto in un giro solo. Questo è scontato. Beh. Che voglia che ho di continuare. Che bello sto gioco. È raccolto soprattutto sul cibo giapponese. Però penso che sia ancora una schifezza. È infatti un riso bianco. Il nome della stella dipende dal tipo di roba che raccoglie. C'è questa sottotrama importante. Va bene ragazzi. Io penso che farò almeno un altro video su catamari per puro egoismo. So che non me ne frega niente. Ma io lo devo giocare. Devo avere una scusa per giocarlo e parlare da sola. Come sempre vi ricordo che se siete interessati a questo tema nerd. Quindi io comunque di pop culture, geek culture. Sia di cose... Sta camminando da solo. Sia di prodotti occidentali che orientali. C'è il sito pampling.com dove trovate le grafiche fan made molto carine. Con cui potete fare realizzare t-shirt, felpe, calze, cover per cellulari, poster ovviamente da appendere. Anche magliettine per bambini. Quindi tagli a bambino. E se al momento del completamento dell'ordine inserite il codice FNIRPH. Come il nome del mio canale e il mio nickname. Moterete il 15% di sconto. Che si va a sommare allo sconto già presente in questo periodo dell'anno. Con i saldi estivi. Quindi potete veramente fare un affare. Ma anche soltanto le magliette sono ottime di qualità. Quindi secondo me è un ottimo periodo per comprarvi qualche magliettina carina, particolare, in modo suo unica. Detto questo fatemi sapere la vostra e anche la vostra esperienza con la serie Katamari. Se lo conoscevate, se l'avete comprato per Switch, se avete giocato il primo Katamari che era su PS2. Io sì, l'ho adorato. Ci ho detto, vi ringrazio per l'attenzione. Da me è principe è tutto. E noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!